Proprio davanti allo Spiser, cantieri edili, edilizia e agricoltura sono purtroppo i mondi lavorativi dove si muore di più. Purtroppo domenica scorsa, proprio in un bosco, un decesso, era finito male l'anno scorso, inizia peggio questo. Come effettivamente dice lei, l'edilizia e l'agricoltura sono due comparti a rischio. Ne abbiamo la prova dei recenti fatti di Firenze con cinque morti nell'edilizia e ne abbiamo la prova in questi giorni del nostro infortunio mortale dell'altro giorno. Il quarantenne bosniaco Elviz Sarajcic è stata la seconda vittima in Veneto nel 2024. Veneto che l'anno scorso era al secondo posto per quanto riguarda il numero degli infortuni mortali. Per questo la CGL e le categorie chiedono alla prefettura l'attivazione di un tavolo permanente sulla sicurezza anche alla luce degli aumenti dell'attività nelle aree boschive da vaia in poi. Se poi consideriamo una situazione così particolare come un cantiere forestale che è dislocato, che è lontano, è evidente che è ipotizzabile anche magari mettere in piedi una serie di controlli a monte. Per cui ad esempio verificare le dotazioni tecnologiche, l'aver fatto e quanto, la formazione sulla sicurezza, che professionalità si mette in campo e provare a costruire una rete che faccia entrare in bosco, diciamo così, solo una serie di soggetti che abbiano una determinata qualificazione. Dopo quanto accaduto in Valvisdende, l'attivazione del tavolo è diventata sempre più urgente anche per l'intensificarsi degli interventi di abbattimento degli alberi per via del Bostrico. Per il sindacato è necessaria una regia territoriale in grado di monitorare il lavoro che si svolge nei boschi, anche e soprattutto in considerazione dell'enorme varietà e diversificazione delle imprese che operano in questo contesto. L'incidente è avvenuto probabilmente non per un errore di manovra, ma per un cedimento strutturale. Il titolare della ditta austriaca per la quale Elvis Reichic stava lavorando è per questo indagato nell'inchiesta affidata al sostituto procuratore di Belluno, Alberto Primavera. In Valvisdende noi abbiamo fatto i primi accertamenti, sapete che l'area è stata disposta il sequestro dal magistrato di turno, il sequestro verrà notificato proprio oggi, è stato confermato e gli accertamenti continueranno nei prossimi giorni. Prima di arrivare alla relazione definitiva dobbiamo raccogliere tutta una serie di elementi per cui servono alcune settimane.